Musica Ben trovati a questo appuntamento con l'informazione dalle Marche. In apertura parliamo dell'emergenza sanitaria. Sono 124 i tamponi e i risultati positivi al coronavirus nelle Marche, su un totale di 413 effettuati. Lo rende noto la Regione Marche, ufficializzando i dati del Gores, Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria. I casi positivi nella provincia di Pesaro Urbino sono 119 in provincia di Ancona, 2 in quella di Macerata e salgono a 3 nel territorio fermano. 19 ricoverati in terapia intensiva, mentre 61 persone si trovano nei reparti di malattie infettive. Le persone in isolamento domicilare sono 704, di cui 643 asintomatici e 61 sintomatici. Una situazione costantemente tenuta sotto controllo, che sta mettendo però sotto stress la realtà sanitaria delle Marche, tanto che in Regione si fa strada all'ipotesi di un ospedale unico per i contagiati. Sentiamo i dettagli nel servizio di Andrea Verdolini. I dati trasmessi questa mattina dal Gores indicano un costante e preoccupante aumento dei pazienti infettati dal coronavirus, con il sistema sanitario che sta cercando di correre ai ripari per arginare il più possibile l'emergenza, tanto che la Regione vuole individuare un unico polo ospedaliero nelle Marche a cui destinare tutti i malati da Covid-19. Tale non so come dovrà occupare una posizione di centralità geografica per essere facilmente raggiungibile da tutta la Regione. E oltre a spazi interni e strumentazione adeguata, richiesta la disponibilità di ampi parcheggi, anche per allestire i supporti come i container per il pre-triage. L'obiettivo è quello di evitare un collasso del sistema sanitario, visto che sta aumentando anche il numero di medici, infermieri e personale medico in isolamento domiciliare. L'ospedale regionale di Torrette rischia di ingolfarsi al punto che la direzione ospedaliera ha ridotto l'attività chirurgica e ambulatoriale non urgente. La necessità è data dal fatto che le rianimazioni degli ospedali sono organizzate con grande stanzone che raccoglie i malati che si trovano a certa distanza tra di loro, ma non in isolamento. Questo vuol dire che nello stesso posto dovrebbero convivere i malati di coronavirus e i soggetti con altre patologie. Per evitare la promiscuità in caso di aggravarsi della situazione potrebbe essere quindi necessario trasferire un intero ospedale e dedicarlo in esclusiva ai pazienti affetti da Covid-19. Tra le ipotesi in esame ci sono gli ospedali di Torrette e di Pesaro. E a causa dell'emergenza coronavirus è stata rinviata la cerimonia di inaugurazione del 730esimo anno accademico dell'Università di Macerata con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in programma il 9 marzo al Teatro Lauro Rossi. L'Ateneo, attraverso il Rettore Francesco Adornato, dichiara dispiacere il rammarico per l'impossibilità di celebrare l'anniversario. Era prevista la partecipazione di un migliaio di persone, parte in teatro e parte in Piazza della Libertà, con un maxischermo, ma le nuove disposizioni emanate dal Governo richiedono uno stop a tutti gli eventi pubblici e alle manifestazioni per far fronte alla crisi sanitaria. L'Ateneo individuerà una nuova data per inaugurare l'anno accademico 2019-2020. E l'emergenza coronavirus non ha invece fermato l'udienza per la cosiddetta banda dello spray, accusata della strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui morirono sei persone schiacciate dalla calca nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. I sei componenti del gruppo della bassa modenese sono arrivati in tribunale scortati dalla polizia ponitenziaria, tutti indossando mascherine, e hanno partecipato all'udienza in cui si procede con il rito abbreviato. La procura di Ancona aveva chiesto il giudizio immediato. L'udienza davanti al GUP Paola Muscaroli si è conclusa in un'ora, con la presentazione delle costituzioni di parti civili. Circa 70. Nessun parente delle vittime, 5 adolescenti e una madre, era presente ad eccezione del fratello di Benedetta Vitali. Il presidente del Consiglio delle Marche, Mastro Vincenzo, ha convocato la conferenza dei capigruppo sull'emergenza sanitaria, una decisione presa d'intesa con il presidente della Giunta, Luca Ceriscioli, che ha programmato un incontro a Palazzo Raffaello. Sentiamo nel prossimo servizio alcuni dettagli. L'input è arrivato direttamente dal presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Antonio Mastro Vincenzo, che ha voluto riunire in un unico tavolo tutti i capigruppo dei partiti che siedono in regione. Unità di intenti, convergenza da parte di tutte le forze politiche, solidarietà all'azione del governo regionale, su questo lavoreremo insieme nei prossimi giorni, tutti i gruppi consigliari, il Consiglio regionale insieme alla Giunta, per affrontare questa emergenza e per dare un segnale positivo a tutta la comunità marchigiana. È il tempo dell'unione e della condivisione, ha detto Gianluca Busilacchi, del gruppo misto. Tutti abbiamo condiviso la linea portata avanti dalla Regione Marche e questo non è il momento delle divisioni, ma della responsabilità e dell'unità, perché i cittadini e la salute dei cittadini sono per tutti noi la priorità. Quindi dobbiamo tenere un atteggiamento chiaro, condiviso e responsabile per tutti quanti. Per Gianni Maggi, Movimento 5 Stelle, bene le scelte sulla limitazione del contagio. Sono molto favorevole a questa gestione condivisa del Presidente con tutti i gruppi per evitare che questo contagio, di cui si conosce molto poco, si possa diffondere e vorrei dire anche che la non diffusione del contagio è la migliore misura economica che possa essere presa da questa Giunta. Sostegno pieno anche da Sandro Zaffiri, Lega Nord Credo che siamo sulla strada giusta di coinvolgere tutta la politica regionale. Oggi c'è il primo ancora problema, è limitare i contagi per quanto riguarda la sanità, però contestualmente bisogna iniziare a parlare per le nostre decine e decine di migliaia di aziende. Questo è stato recepito, credo che il supporto nostro di una forza di opposizione vada in questo contesto e pertanto credo che siamo sulla strada giusta. Soddisfazione da Elena Leonardi, di Fratelli d'Italia È molto positivo il fatto di condividere questo momento importante perché è il momento di fare scelte condivise con il bene dei marchigiani, priorità e attenzione non solo alla salute ma anche al comparto economico e ad una comunicazione che necessariamente deve essere chiara per i nostri cittadini. Per Forza Italia, Piero Celani Io credo che l'aspetto fortemente positivo di questa riunione è stato quello diciamo che la politica marchigiana ha mostrato un grande senso di responsabilità. Qualsiasi forza politica si è stirata naturalmente con l'esecutivo per dare il proprio contributo, il sostegno per risolvere questo grande problema che sta attanagliando la comunità italiana, in modo per dire questa marchigiana che già soffre per altre situazioni di crisi. Responsabilità politica è quella richiamata da Boris Rapa, di Uniti per le Marche. Con grande responsabilità la politica marchigiana si unisce su un percorso condiviso in questo momento molto difficile e delicato per dare chiarezza e soprattutto risposte alla comunità marchigiana. Per Italia Viva è intervenuto Fabio Urbinati. La stessa compattezza e la stessa serietà di valutazione non la chiediamo a tutta la comunità marchigiana, la chiediamo agli imprenditori, la chiediamo a tutti coloro che hanno responsabilità. Quindi questo è il momento di stare uniti e soprattutto rispettiamo quelle semplici norme che ci vengono dettate dal mondo della scienza. Unità e consapevolezza, il richiamo di Francesco Micucci del PD. Priorità verso la sanità, un grazie a tutti gli operatori sanitari che stanno lavorando con passione e con dedizione per questa emergenza, ma non ci dimentichiamo ovviamente dell'economia, ma la prima sicurezza per l'economia è quella di ridurre il più possibile l'espandersi di questo virus. Le conclusioni del Presidente della Regione, Luca Ceriscioli. Un incontro importante con tutti i capigruppo della Regione, di qualunque colore segno politico, uniti a ragionare insieme sui problemi che riguardano il coronavirus nel nostro territorio. L'occasione per raccontare il punto in cui si è arrivati con le attività, lo sforzo che stanno facendo il personale sanitario, l'impegno verso il mondo economico e una capacità di ragionare tutti assieme su un problema che riteniamo importante. Un bel modo di comunicare alla comunità regionale, anche preoccupata per quello che accade, che c'è una capacità di condividere percorsi e scelte che aiuterà a fare bene e a rispondere in un momento così difficile a tutte le esigenze dei cittadini delle imprese. La cronaca non ce l'ha fatta la dipendente di Unicam, morta a distanza di otto giorni dal terribile incidente stradale che l'aveva vista seriamente coinvolta lo scorso 25 febbraio a Camerino. Lorena Simoni, 58enne di Muccia, stava andando al lavoro quando la sua Fiat 600 si è scontrata frontalmente con un'auto guidata da un 81enne di Camerino. violentissimo l'impatto. La donna era stata portata all'ospedale di Camerino e successivamente trasferita a Torrette. L'anziano era stato trasportato in aliambulanza all'ospedale Dorico ed è lì che la donna si è spenta nella serata di ieri. Il rettore di Unicam, Claudio Pettinari, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia. Il Rossini Opera Festival lancia una maratona a Reims sulla sua pagina Facebook. Venerdì 6 e sabato 7 marzo il ROF trasmetterà dalle ore 17 le ultime quattro edizioni del Viaggio a Reims messa in scena a ROF da Emilio Sagi. L'iniziativa, spiega il sovrintendente Ernesto Palacio, vuole essere una testimonianza di come la musica sia più forte di qualunque impedimento ed ostacolo. Cambiamo decisamente argomento andiamo a Roma dove Bovin Marche ha presentato la sua nuova linea skin con un evento gourmet. Presente anche il sottosegretario dell'agricoltura Labbate. Vediamo. È stata la qualità certificata ed evidente della carne bovina di razza marchigiana la protagonista dell'evento gourmet promosso da Bovin Marche che si è svolto nei giorni scorsi in un ristorante di Roma. Presente la stampa nazionale e gli operatori del settore che hanno partecipato alla presentazione della nuova linea skin di carne Bovin Marche associazione di allevatori marchigiani da oltre 30 anni, simbolo di tutela e buone prassi. Presentatore della serata è stato Federico Quaranta, voce e volto storico, rai e testimonial del brand. A raccontare i numeri e progetti dell'associazione sono stati Domenico Romanini, presidente, e Paolo Laudisio, direttore, che hanno presentato i successi di un'associazione che negli anni è riuscita a trasformare il frazionamento degli allevamenti dei 400 soci in punto di forza e a valorizzare la qualità della razza bovina marchigiana tutelandola e rendendola riconoscibile al consumatore. Presente all'evento anche Giuseppe Labbate, sottosegretario di Stato del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha sottolineato come Bovin Marker rappresenti un modello virtuoso che sposa la sostenibilità ambientale alla qualità dei prodotti proposti. Una materia prima di pregio, una carne magra ma dal gusto ricco che lo chef del ristorante ha valorizzato proponendo un menù ad hoc. Ulteriore valore è l'aspetto del prodotto. Con questo metodo la pellicola alimentare viene fatta aderire attorno alla carne come una seconda pelle, skin appunto, sottovuoto e chiusa ermeticamente. La carne non rilascia quindi acqua durante il ciclo di vita sullo scaffale e mantiene tutte le sue caratteristiche. Lo sport cerca di organizzarsi per dare continuità ai suoi campionati nelle varie discipline. Nel calcio la Serie D dovrebbe riprendere soltanto domenica 22 marzo, ovviamente a porte chiuse, per la disputa, nel frattempo anche del torneo di Viareggio. Uno stop dunque di tre settimane che non può non condizionare lo svolgimento del torneo. La Lega Pro prende atto delle disposizioni governative e ha diffuso una circolare sulle modalità di accesso per le sue partite senza pubblico sino al 3 aprile prossimo. Proporrò che l'inizio del campionato 2020-2021 venga anticipato di una o due settimane per avere margini che non ci obblighino a finali di campionato faticosi e intasati in caso di emergenza, dichiarato il presidente Ghirelli. Con spalti desolatamente vuoti, Lascoli è sceso in campo ieri sera al Del Duca contro il Chievo cogliendo in rimonta un pareggio prezioso. Vediamo il servizio curato da Andrea Verdolini. Un punto da non disprezzare qualche segnale di timido progresso rispetto alle ultime prestazioni e Lascoli nel deserto del Del Duca impatta con il Chievo. Risultato assolutamente legittimo e propiziato per i bianconeri da una ripresa generosa con la squadra trasformata dagli ingressi di Trotte e Morosini elementi da cui Stellone non può assolutamente prescindere. Alla fine il migliore in campo è stato il portiere ospite Schamper che ha salvato la sua porta in un paio di circostanze ma per onestà va detto che gli scaligeri del neo allenatore Lex Aglietti si sono fatti decisamente preferire nella prima frazione. In definitiva per Lascoli c'è tantissimo da lavorare ma per morale ed autostima è un risultato comunque prezioso. Turnover per entrambi i tecnici rispetto alle gare dello scorso fine settimana ospiti che provano a farsi vedere in avvio affacciandosi nell'area di rigore avversario in un paio di circostanze. L'Ascoli-Sornione costruisce la palla gol di Granlunga più niti dal 27esimo Berlec dalla fascia dopo un tentativo di rovesciata di Scamacca appoggia per la corrente Petrucci che di sinistro cerca l'angolino e ci vuole una prudezza di Schamper per deviare il pallone in corner. Vignate è di Granlunga il più pericoloso dei suoi e la giovane Stellina Clivenze la mette per Giorgevic che anticipa tutti sul primo palo mettendo però sul fondo. Il vantaggio ospite arriva al 38esimo su un traversone Vignato incustodito a bozzo un tiro che diventa un assist per Giorgevic che da due passi insacca. Esultanza compostissima dei Veneti come da raccomandazioni di questi tempi. Insistono i gialloblu che paiono nel finale di tempo decisamente più tonici. Ripresa e stessa musica almeno all'inizio. Al nono combinazione esposito Vignato tiro di quest'ultimo che sfiora il palo lontano. Entra Morosini per Petrucci con Cavion che si sposta al centro. Il picchio sembra più convinto Stellone inserisce anche Trotta per lo spento Piccinocchi e proprio l'ex crotonese si rende subito insidiosissimo con una percussione centrale ma Schamper è ancora magistrale a metterci la manona. Al 24esimo il pari accelerata ancora di Trotta il portiere si allunga Renzetti tocca e stavolta Ninkovic è inagguato ed inzacca la sua sesta rete stagionale dopo un preciso controllo. Al 34esimo Berlec in area appoggia per Trotta ma Schamper di nuovo miracoleggia. Il match ora è appassionante ripartenza dei veronesi Vignato si presenta davanti alle ali che se la cava in angolo. Meggiorini subentrata a Giorgevic si avvita di testa dal dischetto ma la sua inzuccata è centrale. Brosco trova il tempo per farsi ammonire ed essendo in diffida salterà la gara di Chiavari. Le due squadre ci provano sino al termine ma poi si adeguano ad un pareggio che in fondo non dispiace a nessuno. E stamani sono ripresi gli allenamenti in vista del match di domenica in programma alle 15 e che sarà diretto da Ivan Robilotta di Sala Consilina. Domani subito dopo pranzo la squadra bianconera partirà verso il ritiro di Coverciano quindi con una giornata di anticipo. Nella pallavolo la Lube ha vinto nettamente a Roseler la gara di andata dei quartieri di finale di Champions League 3-0 per la compagine di De Giorgi che ha sofferto solo nel primo set per poi vincere in scioltezza gli altri due parziali grazie soprattutto ad un servizio micidiale. Ora i bianco-rossi sono attesi dalla gara di Superlega contro Trento domenica alle 18 ovviamente a porte chiuse. Passiamo al ciclo cross che ha chiuso la stagione appena in tempo prima del dilagare del contagio i particolari nel servizio curato con la collaborazione di Umberto Martinelli. Il ciclo cross è appena andato ufficialmente in archivio ma non perde la propria attualità e pensa al futuro. La formazione professionistica Continental Work Service Dynatec Vega arricchisce il proprio organico e asseconda la propria vocazione multidisciplinare con l'acquisizione di Jacob Dorigoni pluricampione italiano di ciclo cross. La scuderia blu-bianco-rossa con sede a Montappone e rete Marco Veneto Toscana si riallaccia alla radicata tradizione ciclopratistica del distretto del Cappello che annovera tra i vincitori anche Fausto Scotti attuale CT Azzurro dopo essere stato tricolore e membro della nazionale. Il 22enne Dorigoni è il 17esimo uomo del sodalizio ed è particolarmente legato al Fermano in cui ha colto il quarto posto nel Gran Premio Capodarco. I dirigenti mecenati Demetrio Iomi Renato Marin e Massimo Leverato esprimono piena soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa. Jacob è un ragazzo di talento che potrà esprimere pure su strada grazie al lavoro condotto insieme ai nostri tecnici Emilio Mistichelli e Biagio Conte. Dalla Croazia arriva nel frattempo un altro bel segnale significativo a sesto posto conquistato da Matteo Rotondi nel trofei UMAG in cui si impone allo sprint l'olandese Olaf Kui già secondo in patria alla Craftster Van Zwolle. Sfortunato le impidienze Paolo Totò vittima di una caduta con rottura della bici e qualche ammaccatura sul podio insieme a Coilo sloveno Marco Kump e il tedesco Niklas Markl quarto Banusch quinto Marco Benfatto Bardiani nono Lorenzo Cataldo la World Service Danatek Vega Montappone sta gestendo la challenge del 29esimo Cappello d'Oro Memorial Piazzini questa è la doppia classifica primo Leonardo Marchiori NTT Continental Team con 10 punti secondo Bonaldo Zalf Euromobil 7 punti terzo Nicolo Ferri 6 punti a seguire Baseggio Colnaghi Magli Baldaccini e Marcellusi società Gran Premio 1000 cappellini prima la Zalf con 11 punti secondi a pari merito NTT Continental Team e Mastro Marco a quota 10 Genela Store SGB Fratelli Curia 5 Team Colp H2 restando al ciclismo si sta cercando di salvare oltre alla Milano-Sanremo anche la Tirreno Adriatico in calendario dall'11 al 17 marzo con le ultime tappe che dovevano disputarsi proprio nella nostra regione Unica strada percorribile è quella di evitare la presenza del pubblico sia all'arrivo che alla partenza con tutte le difficoltà logistiche che questo comporta Un'impresa quasi disperata anche se gli organizzatori di RCS vogliono provarci sino all'ultimo minuto prima di gettare definitivamente la spugna Diamo ora un'occhiata alle previsioni meteo previste per venerdì 6 marzo Amici tra i bimeteo benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che vedrà una zona di bassa pressione attraversare proprio un po' tutta l'Italia da nord verso sud portando condizioni di instabilità in tutto il nostro paese controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia come vedete nuvolosità estese a tratti anche piuttosto compatta anche se col passare delle ore al nord e poi su parte dell'Italia centrale è attesa anche qualche schiarita come precipitazioni fenomeni diffusi sotto forma localmente anche di qualche temporale interessano a parte del nord est e poi al centro sud ma saranno fenomeni per lo più di breve durata l'atmosfera è davvero molto instabile tutto sarà infatti alternato anche a delle pause quindi in definitiva ci attende una giornata ripeto molto molto variabile qualche piovasco soprattutto al nord est nell'Italia centrale specie versante tirrenico non escudiamo anche qualche temporale e poi nuvole e piogge raggiungono anche il sud Italia non mancheranno delle nevicate sia sulle Alpi che sull'Apenino settentrionale e temperature in diminuzione nell'Italia centrale al sud però clima ancora molto mite per sapere però nel dettaglio cosa capiterà da voi anche nel weekend scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo e il settore agonistico della federazione italiana a pallacanestro ha comunicato la variazione dell'orario della gara che vedrà la XL Extra Light Monte Granario impegnata sul campo della Tezenis Verona sabato 14 marzo non si giocherà alle 20 e 30 come da calendario redatto nella giornata di ieri ma alle ore 18 ricordiamo che il match tra Carpegna Prosciutto Pesaro e De Longhi Treviso si disputerà domenica alle 17 e 30 alla Vitifrigo Arena di Pesaro per un'ora questa è l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento di Pesaro di Pesaro di Pesaro di Pesaro di Pesaro di Pesaro